Quattro stagioni al Napoli dall'80 all'84, Rud Kroll è stato uno dei calciatori più amati dai tifosi. Ancora oggi ricordato per la sua straordinaria potenza fisica e per l'eleganza assoluta dei suoi gesti tecnici. A lui, che non ha mai smesso di usare parole d'affetto ed elogio per Napoli e per i napoletani, questa mattina a Palazzo San Giacomo il sindaco De Magistris ha conferito la medaglia della città. Io ho arrivato qui a Napoli dove sei un uomo del sport, sempre più, come si dice, appriciato. E questo è il nostro paese, il più frio. Sì, a Napoli è sicuramente più caldo, questa arriva la mia prima giornata, sicuramente dopo la prima partita a McGevele che ho giocato a San Paolo. Giorni dopo tutte le persone mi dicono che ho tante cose, sicuramente io non capisco questa cosa, ma sicuramente dopo due o tre mesi ho capito bene che lei dice, è stato veramente un periodo in mia vita a calcio molto importante. Un riconoscimento da un grande campione di calcio, ma anche un uomo legatissimo alla nostra città, nel cuore di tutti i tifosi, di chi l'ha conosciuto all'epoca come me, che era un adolescente, in un ruolo indimenticabile che non c'è più, quello di libero. La sua capacità di stare in campo, la visione di gioco, di fare squadra, insomma ha segnato la storia del calcio internazionale, e la storia del calcio della nostra città.